Il Comitato ha necessità di essere ascoltato dall'amministrazione comunale affinché le prescrizioni che erano state fatte a suo tempo in sede di valutazione di impatto ambientale dalla Regione Liguria e dallo stesso Comune vengano mantenute, vengono ricordate e che ANAS si adegui e adegui il proprio progetto in questo modo, seguendo tali istanze e tale prescrizioni. Ecco, come si svolgeva la manifestazione oggi? Semplicemente, come vedete qua, un sit-in molto pacifico in cui sostanzialmente noi vogliamo rappresentare DSC in occasione del Consiglio Comunale che parlerà dell'Aurelia Bis e molto semplicemente abbiamo chiesto alle espressioni politiche di minoranza di rappresentare in maniera assolutamente equilibrata questo problema affinché si apra un dialogo con l'amministrazione perché solo attraverso un dialogo si riesce a generare determinati risultati a tutela del territorio e voglio sottolineare a tutela del territorio.